Quanto influiscono le elezioni americane sul mercato azionario e sul rendimento del portafoglio? Questo è uno degli interrogativi che gli investitori e i professionisti della finanza si stanno ponendo perché, come sapete, le elezioni si avvicinano. È il 3 novembre e allora sostanzialmente ci si trova a dover affrontare una situazione potenzialmente di volatilità. Capital Group ha analizzato 85 anni di dati e evidenziato i cinque modi in cui le presidenziali americane influenzano i mercati. La prima informazione è la seguente. Una semplice metrica borsistica ha previsto il vincitore in 20 delle ultime 23 elezioni presidenziali dal 1936 e questo è il risultato. I mercati tendono a prevedere i risultati. In che modo? Se lo standard è PUR 500, ad esempio, negli ultimi tre mesi precedenti alle elezioni, quindi in questo caso agosso, settembre, ottobre è in rialzo, quindi è in trend rialzista, un rialzo importante, ovviamente andrà a vincere il partito in carica, in questo caso il partito di Donald Trump, quindi il presidente eletto viene rieletto. Questo è quello che accade quando lo standard è PUR 500 è in crescita e al 15 settembre lo standard è PUR è in crescita del 3% dal 3 agosto, quindi tre mesi prima appunto del giorno delle elezioni e del 5% su base annua. Insomma, sostanzialmente i dati da questo punto di vista premiano Donald Trump. Ma attenzione, se il clima politico ed economico è instabile, e allora in questo caso vince la controparte. Questo è quello che appunto emerge dall'analisi di Capital Group e questo è un momento sicuramente all'insegna dell'instabilità politica ed economica, complice anche a una situazione che non si poteva prevedere, cioè quella determinata dal coronavirus. Questo significa che le elezioni di quest'anno potrebbero essere inedite, insomma, potrebbero rappresentare in qualche modo un'eccezione veramente forte, anche in virtù del secondo indizio che Capital Group ci fornisce. Ed è questo qui. Quando un presidente americano è stato rieletto in una fase di recessione, una fase di recessione proprio come quella in corso, è successo una sola volta nella storia degli Stati Uniti e bisogna andare indietro all'inizio del 1900. Anzi, alla fine del 1800, 1897-1901, William McKinley era un repubblicano, proprio come Donald Trump. Voi direte come mai la durata del suo mandato è così breve, dal 1997 al 1901, perché poi fu assassinato e dunque gli Stati Uniti furono costretti, ovviamente, a effettuare una nuova elezione. Andando avanti, ci spostiamo su questo altro fronte per raccontarvi altre situazioni in cui mercati ed elezione politica degli Stati Uniti hanno in qualche modo, si sono ritrovati insieme e vanno a comporre un'equazione interessante. Gridlock o Sweep? Le azioni salgono comunque, a prescindere che vinca un candidato o un altro. In che senso? Vediamo bene, se alla fine delle elezioni il partito che ovviamente controlla la Casa Bianca controlla anche l'intero congresso, quindi due camere ma anche uno solo, insomma il rendimento delle azioni sale in doppia cifra, in particolare quasi, insomma, superiore al 10%. Se invece il partito di minoranza controlla il congresso, una delle due camere del congresso, ebbene il rendimento delle azioni sale ugualmente ma solo del 7,4%. Questo insomma conferma che il mercato cresce a prescindere indipendentemente dalla compagine che appunto entra nella Casa Bianca a Washington e in generale va a controllare appunto le camere del congresso. Le elezioni, peraltro, quelle di quest'anno, secondo le analisi, gli analisti, i sondaggi, sembra proprio che si considerano, che si concluderanno, chiedo scusa, quasi certamente con un governo riunito sotto una blue wave, quindi chi vince la Casa Bianca dovrebbe controllare anche Senato e congresso, ma insomma è anche aperta l'idea che il congresso possa essere diviso, cosa che potrebbe accadere sia con una vittoria di Trump che con una vittoria di Joe Biden. Un'altra equazione, diciamo così, è questa qui, è quella che riguarda il mercato a cui non interessa che vincano i democratici o i repubblicani. Lo dimostra questa analisi. Negli ultimi 85 anni abbiamo avuto 7 presidenti repubblicani e 7 presidenti democratici. In entrambi i casi la direzione del mercato è sempre stata solo e soltanto al rialzo e allora ai mercati non fa alcuna differenza evidentemente sapere se appunto sia Joe Biden o sia Donald Trump andare a vincere le elezioni, ma anche in questo caso potremmo trovarci davanti a un'elezione americana diversa, che farà eccezione rispetto a questi analisi e studi statistici. Perché complice il fatto che Joe Biden ha annunciato di voler aumentare determinate tassazioni rispetto a quanto fatto da Donald Trump, in tanti ritengono che con la vittoria di Joe Biden potremmo assistere a un riscoffo sostanzialmente, a un momentaneo, un momento in cui il mercato decide di invertire l'andamento in territorio negativo e poi magari provare a riprendersi. L'ultima equazione che vi mostriamo, l'ultima analisi di Capital Group che vogliamo mostrarvi è questo. A prescindere dall'idea che appunto ai mercati non interessa che vinca un repubblicano, un democratico, comunque sarà all'insegna del rialzo appunto dell'andamento di Wall Street e in generale dei mercati internazionali, questo è un altro dato importante. Gli investitori in realtà si comporteranno in maniera molto più cauta, specie negli anni elettorali sostanzialmente. Gli investitori sono più cauti e questo cosa vuol dire? Che destinano più risorse al mercato monetario. C'è un'accelerazione nel 2020, dati aggiornati al 31 luglio, che le risorse appunto degli investitori verso il mercato monetario, che è meno volatile rispetto a quello azionario, si sa insomma e quindi possiamo considerarlo anche più sicuro, beh c'è un aumento, guardate qui, di 546 miliardi di dollari. Ovviamente anche in questo caso incide in maniera importante la pandemia del coronavirus che di fatto è iniziato a marzo e che non è ancora finito, quindi insomma la ripresa anche globale dell'economia è molto lenta e in questo caso gli investitori stanno destinando ancora di più rispetto ai dati statistici che portano agli anni elettorali risorse appunto al mercato monetario. I fondi azionari hanno registrato, sempre nello stesso periodo quindi dati aggiornati al 31 luglio, meno 36 miliardi di dollari su base annuale, insomma rispetto a un anno fa. Questo per l'effetto che vi dicevo, l'effetto Covid. Queste sono le equazioni e sono gli studi che Capital Group ha realizzato per cercare un po' di fotografare e di anticipare quello che accadrà sui mercati una volta che verrà eletto il Presidente degli Stati Uniti. Ma attenzione, come abbiamo già detto più volte in questo percorso, potenzialmente saranno delle elezioni diverse, inedite rispetto agli ultimi 85 anni a cui abbiamo assistito, perché Trump e Biden sono due figure molto diverse, perché siamo in un contesto molto diverso rispetto a quelli precedenti, non c'era mai stata una pandemia come quella del coronavirus e attenzione anche all'ultimo aspetto. Trump ha minacciato di non voler accettare eventuali risultati che lo vedono perdente, minacciando appunto l'annuncio di brogli e di sostanzialmente resistenza a fronte di un risultato appunto per lui negativo. Staremo a vedere l'appuntamento con le fonti tv e con il prossimo approfondimento di informazioni.